Continuano le critiche verso l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola da parte della consigliera di opposizione Gisella Botticchio che interviene questa volta sulla questione commercio in città. Un'amministrazione viene votata dai cittadini proprio perché i cittadini si aspettano un programma, si aspettano delle azioni, si aspettano delle novità, delle evoluzioni che poi il tutto porta a una crescita di una comunità. Vedere un sindaco che punta il dito sui cittadini, che i cittadini addirittura, i commercianti non trovano le soluzioni, non hanno idee, cioè il cittadino e il commerciante deve andare in comune e portare le idee. Agropole, città turistica e commerciale, così doveva andare, così dovrebbe essere, addirittura si è critici contro chi? Contro chi ha una partita IVA aperta, chi paga un fitto, chi non riesce ad arrivare a fine mese e chi non riesce a mettere il piatto a tavola ai propri figli. Ho avuto un incontro con il sindaco quando sono entrato in consiglio comunale, ne abbiamo parlato quasi due ore, dissi sindaco le cose non vanno bene, abbiamo bisogno di una figura al commercio, una figura al turismo, chi ci rappresenta? Chi rappresenta la città? Io il consigliere di opposizione che denuncio quello che non va e poi massacrata, massacrata per televisione, massacrata si abolisce un question time perché non si deve discutere delle problematiche della città. Quindi noi siamo governati da un sistema fascista, sono dei fascisti, chi non va bene va tolto di mezzo, quindi qualsiasi incontro, qualsiasi dibattito politico deve essere abolito perché i problemi non si devono sapere in città. Meno si sa meglio è, regna l'omertà, regnano i padroni, quindi il consigliere Botticchio gli aspetta futuro amaro, ma io ne sono felice, difenderò sempre i più deboli, sempre.